Presidente Bitonci, ma cosa state facendo davanti all'ufficio del Presidente Grasso? Stiamo occupando gli uffici del Presidente Grasso, lui non c'è, lui è via, in ferie, e noi qui a lavorare per cercare di bloccare questo vergognoso decreto svuotacacceri che ha cancellato il reato di immigrazione clandestina. Il Presidente Grasso ovviamente sarà in ferie, noi siamo qui a lavorare, questo che è successo oggi è una cosa gravissima, noi abbiamo fatto la nostra dura opposizione sul decreto svuotacacceri che come tutti sanno cancella il reato anche di immigrazione clandestina. Questa mattina è stato invertito l'ordine del giorno senza nessuna votazione, quindi nessun rispetto per le opposizioni e anche contro il regolamento. Noi siamo andati su, abbiamo occupato gli uffici, Grasso ha mandato perfino una foto probabilmente dalle vacanze dicendo che gli uffici erano vuoti ma noi eravamo là davanti, davanti alla porta, ma è nostro veramente un gesto non solo simbolico e martedì ricomincerà la nostra battaglia perché abbiamo ottenuto una grande vittoria perché l'HP Gruppo comunque ha interrotto il provvedimento e l'ha portato la settimana prossima. Un piccolo gruppo come il nostro della Lega Nord fa una grande opposizione e blocca per una settimana intera questo in vero e conto decreto. Oggi abbiamo protestato insieme a tutti gli amici del gruppo perché il governo si è voluto ieri sera riservare con una scusa lateralmente falsa di ragionare sul provvedimento svuotacarceri che noi abbiamo avversato con una opposizione fermissima utilizzando tutti i tempi disponibili. Dovevamo continuare oggi quindi una discussione generale su un altro provvedimento iniziato ieri sera invece questa mattina il governo e la maggioranza sono arrivati dicendo che si ricominciava dallo svuotacarceri. Noi pensiamo che questa sia una violazione forte dell'atteggiamento che si deve avere verso il Parlamento e quindi abbiamo cercato e chiesto di avere una capigruppo. Peccato che il Presidente Grasso non c'è e non si sa dove sia. A questo punto noi abbiamo comunque occupato gli uffici del Presidente per far capire anche all'esterno che quando si parla del Parlamento si parla di una cosa seria e che quindi non si possono fare i blitz a secondo delle voglie o delle necessità di una maggioranza. Ci sono delle regole e degli atteggiamenti che vanno mantenuti. Ovviamente noi riprenderemo martedì, siamo riusciti ad ottenere che si vada martedì e da martedì ricominceremo la nostra fermissima opposizione verso il provvedimento libera ladri, libera delinquenti, libera criminali.